Se vuoi andiamo dall'altra parte? No, qui si mangia bene. Architetto, c'ho un ottimo grignolino, c'ho un dolcetto dannata e poi c'ho una barbera classica. Io voglio birra. Mi piace la birra, mi fa allegra. Permette il rosso, quello vostro va bene. Va bene, grazie. Dove hai imparato a bere? Qui? Si vede mio padre. E tu invece? Non sei come se dici in italiano. No, non sono praticante. E' una smittina mino. E' un bel nome. Non puoi parlare l'arabia? Non capisco il tuo dialetto. Dari, sì. E' una smittina l'arabia al fossa. E' una caria. Ascolta. Io sono qui più o meno da 30 anni. E non ho mai frequentato arabi. La mia lingua è l'italiano. Prego, signorina. Prego, signorina. Grazie. 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 Comunque, io so il tuo nome. Ho visto cartolini, le tue foto, e foto della tua... у...